Buongiorno a tutti dal vostro elettrificato Matteo Valenza Oggi ci occupiamo di soldi e auto elettriche e quindi parliamo degli incentivi che dovrebbero arrivare fra pochissimo Anzi, quando guarderete questo video forse saranno già anche arrivati ma fate presto che di solito finiscono subito Ovviamente però non correte concessionaria prima di esservi iscritti al canale e aver acceso la campanellina Fatto? Bene! E ora cominciamo Il Premier Draghi e i suoi ministri pare che siano lì lì per trovare la quadra in uno scenario molto complesso per gli incentivi tirati per la giacchetta un po' da tutti i fabbricanti, importatori, concessionari, parti sociali eccetera eccetera Sembra l'assalto alla diligenza ma in effetti se il governo non mette a disposizione un po' di aiuti la vedo dura un po' per tutti Detto questo, di soldi ce ne sono stati messi sul tavolo parecchi per la verità Sembra che infatti si parli di 700 milioni di euro per quest'anno e un miliardo all'anno fino al 2030 Sembrava che una parte di aiuti dovessero servire nel 2022 per la riconversione ecologica dell'industria ma invece andranno ai cittadini Ma con quali regole? Il malloppo più alto va alle auto elettriche si parla di 250 milioni di euro e oggi ci occupiamo solo di quelle per il resto si vedrà definitivamente quando uscirà il decreto legge La prima bella e novità è che per comprare un'elettrica nella fascia 0,20 grammi di emissioni di anidride carbonica e ottenere gli incentivi non c'è più obbligo della rottamazione di un'auto vecchia se lo si fa l'incentivo sale ma non è più obbligatorio Si parla di 4.000 euro per chi non ha un'auto da rottamare e 6.000 per chi invece ce l'ha A queste cifre si aggiungerà di certo un bonus obbligatorio da parte del concessionario che potrebbe portare allo sconto totale da 8 a 10.000 euro con rottamazione Ma c'è un ma e qui ci sono ancora un po' di teste da mettere d'accordo Vi ricordate che l'anno scorso il limite di prezzo per avere l'incentivo dell'elettrica era di 50.000 euro più IVA ovvero 61.000 euro? Ecco, quest'anno pare che ci sia un giro di vite per le auto diciamo così, di lusso quindi si scende a 35.000 euro senza IVA come dire 42.700 euro Per carità, adesso non è che manchi la scelta fra le elettriche ma qualcuno ha detto giustamente che mettendo questo limite vengono straordinati i marchi tedeschi e cioè tutte le Audi, molte BMW, le Mercedes ed ovviamente anche le tanto amate Tesla è una cosa che in effetti non ha molto senso perché l'incentivo è fisso quindi non costa di più allo stato sia che io compri una Dacia Spring sia che compri una Tesla Model 3 Standard Range Plus e invece incasserebbe molta più IVA Vabbè, certe cose diciamo che rinuncio ancora a capirle ma adesso veniamo al bello cosa posso comprare al meglio cercando di sfruttare l'incentivo e restando sotto i 20.000 euro? Io ho 5 auto in classifica, le conosco bene e posso dire che come auto da città e intercity vanno benissimo ciascuna ha i suoi pregi e i suoi difetti ma con 8.000 o meglio ancora 10.000 euro di incentivi sono tutti ottimi acquisti partiamo la prima in ordine alfabetico è la Dacia Spring l'elettrica più economica che c'è che costa da listino 20.650 euro quindi dal concessionario ci scenderebbe a poco più di 12.000 euro nell'ipotesi più pessimistica in pratica si va a pareggiare il prezzo di una Sandero è costruita per contenere al massimo i costi e questo ha obbligato a mettere una batteria piccola da 27 kilowattora e per farla durare è modesto anche il motore da 33 kilowatt ovvero 45 cavalli e niente finiture di lusso anzi sedili duretti e materiali un po' croccanti plasticosi diciamo in realtà nella guida cittadina non è che si senta poi tutta questa differenza con le altre auto perché da 0 a 50 è molto vivace se poi si vuole andare un pochino più forte si siede un po' la velocità massima infatti è di 125 km orari e a questa andatura diventa anche un po' rumorosa ma l'ho detto prima questa dacia è davvero dedicata al centro città per la ricarica quella corrente continua rapida quindi c'è ma si paga a parte ma facciamo un salto in avanti e parliamo della Fiat 500e e con questo modello entra in gioco anche l'heritage la moda, il design, l'engineering di un'elettrica che è veramente bella da possedere e non per niente è l'elettrica più venduta in Italia e anche di un bel po' attenzione non è una low cost ve lo dico subito perché il listino parte da 27.000 euro e sempre facendo l'ipotesi di prima degli 8.000 euro di incentivo si scende a 19.000 cosa ti danno però per 19.000 euro? intanto una linea molto bella che richiama il passato ma invece è molto moderna poi una batteria da 28 kWh e una potenza di 70 kW ovvero 95 cavalli decisamente agile, stabile e costruita bene qualcuno dice che è una piccola Tesla e quindi a me piace veramente tanto ma non solo per questo anche perché è un po' efficiente non tantissimo ma però ci siamo quasi per la praticità poi è chiaro che siccome si allunga 3 metri 63 centimetri non è che dentro ci fai la discoteca ma per i viaggi brevi si può usare anche il sedile dietro se proprio non vi piace averla solo a due porte c'è poi la versione 3 più 1 magari se avete una famiglia con un bimbo piccolo ecco una porticina appunto aggiuntiva che però costa decisamente di più perché poi oltre alla porta ha anche la batteria più grande e 118 cavalli andiamo ora ad un'altra elettrica molto interessante la Renault Twingo che è una delle poche attrazioni posteriore e questo non è un dettaglio da impallinati ma una cosa veramente magica in città perché siccome le ruote anteriori sono libere dai semiassi il raggio di sterzata è veramente fantastico di un livello superiore a tutte le altre eccetto la Smart che è lunga solo 3 metri e 6 la Renault ha un'esperienza molto lunga con le elettriche visto che è partita già dal 2010 con Nissan Leaf e nella Twingo anche se è piccola ci ha messo veramente tanto cuore Alistino costa come minimo 22.750 euro che poi scenderebbero a poco meno di 15.000 euro con la rotamazione ha una batteria da 22 kWh e 82 cavalli nel motore elettrico che dovrebbero bastare per fare quasi 270 km e anche qui di conseguenza si possono fare viaggi lunghi solo a condizione di programmare bene le ricariche perché non c'è quella corrente continua e al massimo si arriva a 22 kW in trifase da guidare però è fantastica la trazione posteriore oltre a renderla molto maneggevole la fa diventare pure divertente e scattosa ha buoni materiali d'arredo e i sedili comodi poi ha 4 porte cosa che non guasta e un piccolo bagagliaio è un po' rumorosa forse ma niente di grave e se c'è un costruttore che sa fare auto da città beh quella è sicuramente la Smart che ha cominciato infatti nel 1998 ad un certo punto hanno scoperto anche loro le batterie e ci hanno creduto così tanto che hanno buttato a mare il fossile infatti fanno solo le EQ ovvero le elettriche declinate in 4-2 e 4-4 la più piccola è veramente la city car perfetta le altre stanno a guardare ma ovviamente è per via delle dimensioni visto che è lunga 2,74 m e la puoi parcheggiare praticamente dovunque anche volendo a perpendicolo col marciapiede costa parecchio anzi tantissimo pensate che è una a due posti fa pochi chilometri e arriva a più di 25.200 euro di listino si vede che è stata nell'orbita di Mercedes con un bel incentivo comunque si scende sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro e ci sta perché è abbastanza di lusso e premium benché come già detto la batteria non sia granché solo 18 kWh e quindi può fare circa 100 km è la peggiore delle ipotesi i cavalieri elettrici in questo caso sono 82 non pochi visto che pesa meno di 1000 kg ed un vantaggio reale che ha rispetto alle altre e che pur essendo piccola ha un gran bagagliaio da 260 litri e la trazione posteriore sempre molto divertente ma se devo forse trovare un difetto è che è molto rigida sulle strade sconnesse ma chiaramente è necessario farla così per averla stabile e sicura e piantata al terreno e siamo vicini alla fine dello spazio utilitario elettriche ma prima devo salutare un bellissimo ritorno l'hanno tolta dall'estino troppo presto la vogliono tutti e quindi almeno finché non arriva la ID.Life sarà una best seller con gli incentivi perché l'hanno reinserita nel listino pensate che nel 2020 c'è chi l'ha comprata per 8.500 euro e se non è un affare quello eccola qui la Volkswagen E-Up ready viva costa infatti 25.850 euro è vero è di salita abbastanza nel listino ma se scende a 16-17.000 ragazzi non lasciatevela scappare non è proprio freschissima in progetto in fondo alla trasformazione di una termica in un'elettrica quindi magari potrebbe essere più efficiente ma raga quanto va bene le hanno messo una batteria grande 37 kWh con ricarica veloce in corrente continua da 40 kW oppure in corrente alternata a 11 e quindi potrebbe andare bene anche per qualche viaggetto lo spazio dentro è veramente poi abbondante a 5 porte per il massimo della flessibilità e due posti dietro belli comodi che però hanno solo i finestrini che si aprono a compasso ma dai va bene anche perché si rifà con i suoi 250 litri di bagagliaio si guida un po' in basso ma scatta nel traffico perché ha una coppia molto alta e fa lo 0 a 100 in 12,3 secondi l'unica cosa che sembra forse un po' anacronistica è che non c'è un vero display sulla plancia come mai siamo abituati ma solo un supporto per lo smartphone che si collega poi all'auto che puoi controllare attraverso diverse app e ragazzi se mi avete seguito fino a qui siete veramente degli eroi perché forse sono andato un pochino lungo ma ce n'erano tante di cose da dire oggi con queste elettriche e incentivo e non preoccupatevi perché ci ritorneremo sopra anche per le altre ma per adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao